Brutto ritorno da Parma per la Tossini Pro Reco Rugby che rientra a mani vuote nonostante una partita giocata punto a punto contro la nuovamente capolista Accademia. I talenti under 20 hanno avuto la meglio con il punteggio di 22 a 13. Agli squali rimane tristezza per una partita che poteva essere condotta molto meglio e anche vinta. La squadra dell'Accademia Ivan Francescato si conferma quindi una bestia nera per i bianco celesti che in questa stagione sono stati battuti sia in casa che fuori e che anche negli anni passati hanno vinto pochissime volte. L'andamento del punteggio evidenzia bene come gli squali siano sempre stati in partita ma non siano mai riusciti a dare la stoccata che avrebbe permesso di vincere finendo anche con il subire al trentesimo della ripresa la meta che ha tolto loro anche la consolazione del punto di bonus. Nota positiva in una giornata grigia l'esordio in Serie A di Stefano Romano, mediano di mischia classe 99, che nella ripresa è subentrato al classe 97 Mattia Di Tota. Con il quarantenne Lisandro Villagra impegnato alle Bermuda sul Mondiale Classic, la maglia bianco celeste numero 9 è in mano ai suoi giovanissimi eredi. In panchina il secondo allenatore Diego Galli. Quella dei giovani resta la strategia della società. I conti noi li facciamo sul campo e per evitare dei buchi generazionali investiamo tutte le nostre risorse sui giovani, perché sono i giovani che daranno comunque continuità, come quello che abbiamo fatto noi all'inizio e quello che continuano a fare tutti gli altri. Il comportamento della prima squadra produce un'emulazione dei giovani per poter prendere il loro posto e dare una continuità.